Prova a chiudere un occhio, Claudia, così metti a fuoco con l'altro. Vedete come si sta bene. L'altra volta era una pazza, io non ce l'ho mai riuscita a tenere. No, ma stavattima quando siamo arrivati a Penoia... Sì, saltava. Ah, allora si è calmata. E si è messa a giocare, capito? Perché stai facendo la pipì? Guarda quella faccina. Ma va questo mento bianco, com'è carino. Ma va il bagno, pure Tommy, è così. È vero. Guarda questa pancilla. Ma no, quando è bella. Lascia, vediamo che fa. Sta un po' bagnata. No, 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 no. No, perché può darsi, perché si buttano nell'acqua. No, perché... Vabbè, pure l'erba è un po' bagnata. Sì, l'erba è un... Ciao. Che vogliamo fare adesso? Ciao, ciao, bacini, bacini. Chiara, come le vuoi fare le foto, come le vogliamo fare? Allora, sicuramente in braccio mi piacciono. Vedi se riesci a mantenere come la tenevi prima per queste due. Le zampe davanti. Diciamo come se fosse in piedi. Così? No, però giù a terra con le zampe appoggiate. Così proprio. Ok. Facciamo vedere in piedi quanto è bellina. Anche perché poi c'è tutta la pancia macchiata. Bella! Questa striscia è bellissima, questa striscia bianca. Sei bellissima. Amore. Vedi, prima era spaventata. Vedi stamattina? Eh, si sta... Quando siamo venuti era spaventata. Lui adesso si fa qualcosa. Lui era un po' spaventata. Sì, però... Come vogliamo fare? Vieni qua. Ma io chiena. Pazza! Vieni qua, non si gravi. No, lei deve avere un perescatolo e proprio... Fai un cammini addosso. Fai cosa, però, Tania. Per la descrizione è un cane egocentrico. Non abbiamo misurato loro, vogliamo misurare a lui e a quell'altro. Ho capito che ti devo maniare a te, ma fatti maniare anche a lui. Eh, se li misuriamo la prossima volta, che potassi che comunque un pochino crescono. E se non veniamo, se non ci fanno venire. La prossima volta, pure se è tra un mesetto. È perché dove pensi che c'erano venire tra un mesetto? Perché no? Non lo so. Cioè, questo dicevo, almeno abbiamo una misura orientativa. Che trotterei in questo momento. Non voglio mancare! Che sta facendo? È terribile! Lei, lei, sì. Che c'è di lui? Eh, mantienila un pochino tu. Sì, vediamo se si sta. Tu sei una monella! Grazie. 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 Grazie a tutti.